Stare nello sport ha un valore inestimabile perché rilancia i valori veri dello sport che in questo momento storico ne abbiamo veramente bisogno e lo sport come ho detto più volte la cura per tanti mali e in questo momento penso sia una cura veramente veramente importante perché trasmette un'infinità di valori, rispetto, eguaglianza e chi più ne ha più ne metta e in questo momento non abbiamo bisogno perché ci ha aiutato a uscire da un periodo difficile come i due anni del covid che non sono ancora finiti però si intravede un po' di luce e adesso stiamo affrontando un altro momento difficile e spero che lo sport abbia una sua importanza nel tutto quindi stare nello sport trasmette proprio questi valori e spero vada avanti il più possibile. Cosa c'è nel futuro di Edoardo Stocchi? Per ora tante bracciate, tante vasche e vediamo, adesso mi pongo gli obiettivi di anno in anno non faccio programmi a lungo termine, l'età è quella che è e si cerca di tenere duro però speriamo di tornare in campo internazionale a livelli molto importanti come è già stato fatto negli anni passati.